Ci chiedono che diametri e che lunghezza di finale utilizzare per determinate pesche. Oggi stiamo pescando in un mar aperto, stiamo pescando con delle esche alternative, cozze, piccoli granchi, stiamo utilizzando dei begatini, delle esche di mare, un filo del 12, del 14, anche del 16 è l'ottimale. Se dovessimo pescare col begatino, allora diminuiamo sicuramente il diametro, però naturalmente utilizziamo sempre un fluorocarbon, un fluorocarbon di qualità. Il FC 403 ve lo consiglio perché non mi ha mai deluso. Let's go! Si traciamo un po' postra.